Allora, Rudiger il 22 di questo fa una partita contro il Novara in primavera, così è quello che sarà poi il test definitivo per essere a disposizione ad allenarsi sempre con noi e poter rigiocare. Poi c'è Vermaelen che ha sempre questa situazione che preoccupa un po', però sta migliorando. Da oggi comincia a correre, siamo alla possibilità di vedere la reazione correndo anche a un buon livello. Poi ci sono Mario Rui e Nura che proseguono il decorso di riabilitazione normale e poi ci sono un paio di situazioni che vengono e che succedono quando si va in nazionale che vanno viste oggi e che naturalmente vanno prese in considerazione perché ci sono un paio di magagnette. Ho finito. Iniziamo con le domande. Inizia Spinelli, Roma Radio. Buongiorno mister. Sì. Sono qua. Senta, chi ha seguito il Napoli in questo inizio di stagione ce lo racconta un pochino diverso in campo, tatticamente, rispetto a quello dello scorso anno. Lei è dello stesso avviso? No. Il Napoli è la miglior squadra che c'è nel nostro campionato come gioco espresso. Sono quelli più bravi di tutti, insieme, per quello che ho visto io, insieme a qualche altra squadra. Però loro come modo di stare in campo, come equilibrio, come riconoscere le cose che vogliono mettere in pratica, che vogliono ricercare, sono quelli più bravi di tutti. Come continuità, come qualità, come completezza di fase offensiva, fase difensiva, sono i più bravi. E il suo allenatore ha fatto vedere di essere uno capace. Magari me lo domandano dopo, lo dico da solo. Perché se uno me lo domanda, non mi fa piacere fargli complimenti. Perché è uno ingegnoso. Io l'ho visto allenare, è uno ingegnoso. È uno che ha dato un contributo al calcio, perché ha fatto vedere cose nuove. E non lo dico soltanto io, perché è stato eletto dai calciatori e dagli allenatori stessi, che è uno di quelli bravi. Per cui gli si fanno sempre i complimenti a quelli che dicono cose giuste, fanno cose fatte bene. Gli si fanno i complimenti. Calicchia, Roma TV. Ha detto poco tempo fa che Cagliegon è il migliore in Serie A per la capacità che ha di attaccare alle spalle la linea difensiva. Ha pensato qualche accorgimento particolare? Ho pensato a dire, a quello che sarà dalla sua parte, di stare attento e di anticipare sempre la scappata. Nel dubbio si anticipa la scappata. Quando, che cosa faccio? Vado ad accorciare per la palla sui piedi o scappo sulla profondità? Nel dubbio, quando hai il dubbio, non esitare. Scappa. Perché quella è la palla che fa male. Cioè, se tu hai dubbio se andare sui piedi e la ricevi poi dietro le spalle e ci arriva prima lui, rischi di prendere gol. Se tu hai dubbio e scappi prima e poi la prende sui piedi, lì ci puoi sempre riuscire. Per cui, la scelta è una soltanto. Mangiante, Sky Sport. Eccoci, la mia è una curiosità relativa ad una proposta che oggi fa Massimiliano Allegri rispondendo a un'intervista di Walter Bertroni sulla Corriere dello Sport. Sostanzialmente, l'allenatore della Juventus propone questo. Sostiene che il mercato va chiuso il 15 luglio. Cioè, non può durare 60 giorni. Cioè, non può durare fino a inizio campionato perché, dice, poi si vedono le conseguenze delle squadre italiane nei preliminari delle coppe europee. Fino al 15 luglio. Fino al 15 luglio, sì. E quindi, non può durare due mesi, non può durare così tanto. E poi sostiene un'altra cosa per quanto riguarda la finestra di gennaio. Se arriva un giocatore di pieni di febbraio e tardi per farlo entrare negli schemi, quella finestra va spostata a novembre. Quindi, chiedo un parere su questa riforma che chiede Allegri. Se è d'accordo, se propone qualcosa di diverso. Quindi, due punti. Mercato estivo chiuso il 15 luglio. Mercato di gennaio spostato a novembre. La vado a leggere dopo. Così a grandi linee mi sembra che non abbia tutti i torti. Perché poi, allora, già è bravo se ha tempo di pensare a queste cose, lui è il più bravo di tutti. Perché è giusto che sia in testa. Perché io non ci avevo pensato a questo. Però, visto che tu me lo dici, effettivamente andare poi a fare la preparazione senza aver completato la rosa può essere una difficoltà, perché noi che lavoriamo sul campo la viviamo così, poi. E visto che c'è un periodo da quando finisce il campionato a quando poi inizia il mercato, che è vuoto, perché non sfruttarlo subito? Cioè, secondo me sono d'accordo. Anche se faccio fatica a dargli ragione, però sono d'accordo. Cioè, che dopo, appena finisce il campionato comincia il mercato estivo. Comincia il mercato estivo subito, perché non vedo perché ci debba essere una pausa e poi andarsela a ritrovare questo mercato dopo aver iniziato, mentre si può far slittare all'inizio. E poi la seconda cosa, anziché a dicembre-gennaio, anziché a gennaio-novembre. Anche questa la reputo molto giusta. Lui l'ha detto perché, questo perché, siccome nelle squadre dove andava a giocare a giugno, è come quando si giocava a noi. Noi, prima, quando giocavo, mi ricordo che c'era il mercato a novembre, il mercato di riparazione. Perché poi quelli che non giocavano e che non trovavano spazio nella squadra tra i titolari, dicevano, tanto poi, fra due mesi posso riandar via, a novembre c'era subito la possibilità di andare a fare mercato. Secondo me è corretto. Corretto perché poi anche qui si arriva a interferire con quello che è poi il lavoro sul campo. E crea disturbo e basta. E il giocatore, magari, di sbagliarlo ci sta. O il giocatore che non è contento di far parte di un gruppo. O si aspettava cose diverse, vuol cambiare e non ce la fa gestire poi quella che è la concorrenza con un dirimpettaio. È corretto che vada a giocare da un'altra parte. E prima si fa e meglio è. E siccome lui si vede non lo faceva giocare, era di quelli che voleva andare via. E allora, quando questo ha detto delle cose intelligenti. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno. Sabatini, pochi giorni fa, da quella poltrona, ha detto di voler lasciare la Roma perché il suo modo di fare calcio istintivo è stato sostituito da una cultura diversa. Lei che stima Sabatini e che ha sposato il progetto di questa società, in che posizione si colloca sul calcio degli algoritmi? Allora, Sabatini è una persona di valore e di valori. Sabatini è uno che vive il calcio dalla mattina alla sera. È uno che, come me, se non vince non è contento. Io ho sentito attentamente la sua conferenza, che è stata una bellissima conferenza. Ho capito quello che vi ha detto e anche quello che non vi ha detto, io ho capito. E mi dispiace che abbia fatto questo. La conclusione se è questa, io mi sento tirato in ballo. Perché probabilmente se la squadra avesse fatto meglio, se io l'avessi allenata meglio, se la squadra avesse fatto più risultati e fosse riuscita fin da subito poi a delineare quella che era la sua forza, a creare presupposti importantissimi, probabilmente avrebbe avuto qualche ripensamento in più a fare quello che ha fatto. Per cui, oltre a quello di dover modificare quello che è poi lo sviluppo delle nostre partite giocate fino a questo momento, alcune delle nostre partite non sono state all'altezza di quello che sono i nostri presupposti. Per cui può darsi che questo l'abbia anche un po' indotto, anche questo qui. Perché lui è un sentimentale per questo sport, è uno che, come ho detto prima, è uno che ci condiziona la propria vita personale. Perché io sono quasi uguale a lui. Per cui sono dispiaciuto. Sono dispiaciuto e debbo fare molto meglio. Io la vivo così. Debo fare molto meglio quello che ho fatto fino a questo momento perché lui, in quello che ha fatto, mi obbliga anche ad agire in questa direzione. Avevo anche una curiosità su Bruno Perez. Volevo sapere quanto manca per vedere il giocatore al top che avevamo apprezzato l'anno scorso e se in ottica di Napoli può essere rischioso una catena di destra con Bruno Perez e Salah conoscendo la forza a sinistra del Napoli. Grazie. Allora, secondo me sta facendo bene Bruno. Sta facendo bene e io non lo vedo tanto diverso da quello che ha fatto le stagioni passate. Gli riconosco la stessa qualità, la stessa forza, la stessa continuità. All'inizio ha appenato un pochettino perché non era allenato. All'inizio è stato fuori un periodo, non si era allenato. Noi avevamo assolutamente bisogno del calciatore in quel momento lì che è quello che ci ha un pochettino condizionato in alcuni momenti il dover far uso per forza di alcuni calciatori. ma non andiamo nelle scusanti. Lui sta facendo bene. Sta facendo bene, sta facendo il suo lavoro. La loro fascia a sinistra è giustamente più produttiva della loro fascia a destra o perlomeno impostano più gioco nella loro fascia a sinistra. Noi nella nostra fascia a destra siamo altrettanto forti per cui quello che deve essere poi una consapevolezza di forza è di confrontarsi e di accettare la sfida su dei livelli alti, su dei livelli di qualità. E si fa così. Rosso Mando Salve mister Io volevo chiedere di Nengolan come sta? Abbiamo visto che si è allenato sempre negli ultimi giorni con il gruppo come sta più che atto a livello di condizione? Se è al 100% se lo ha visto in miglioramento rispetto alle ultime partite e poi una curiosità prima ci diceva che due giocatori sono tornati con dei problemi dalle nazionali uno è strotto ma noi ieri abbiamo avuto fastidio alla schiena l'altro chi è? Allora, nel fatto dei due problemini sono problemini che si possono avere in una squadra in questo caso qui sì e no tornati da nazionale Strottman ha dovuto giocare senza allenarsi tutte e due le partite gli hanno fatto giocare tutte e due le partite e ha un guaio che bisogna risolvere che si può risolvere e oggi si lavorerà anche per questo anche se spero che faccia un po' di allenamento L'altra è una situazione da valutare, da vedere è inutile metterla metterla davanti prima di aver avuto il problema guardiamola a tutti gli effetti e nella sua totalità e poi trarremo le conclusioni per quanto riguarda Raja Raja ha passato un periodo dove è stato al di sotto delle sue possibilità e anche un po' in difficoltà fisica ora si sta allenando bene secondo me per ritornare ad essere quel calciatore forte ha bisogno di continuare su questa strada qui e noi abbiamo bisogno dei giocatori forti per cui ci deve restituire quello che lui ci ha abituato e quello in cui è mancato in queste partite qui ecco, c'è un doppio impegno da dover saldare Parisi Senta, la trasferta di Napoli è da sempre un po' diciamo così, la dicono che è rischiosa però da un paio di anni a questa parte sicuramente è più infuocata sappiamo bene i motivi insomma, le chiedo domani ci sarà un San Paolo tutto esaurito e non ci saranno però i tifosi della Roma le chiedo, non crede che questo trattamento che continuano ad infliggere ai tifosi della Roma anche per esempio in casa con le continue multe per i cambi opposto e tutto ovviamente non le chiedo di sbilanciarsi troppo però non fa sì che sia un trattamento un po' di serie B troppo penalizzante sia per la Roma che per i suoi tifosi? Ma sai, quando si attua una regola e quando si prende una posizione così netta come in questo caso hanno preso contro di noi bisogna andare a vedere poi in profondità quale sono le ragioni io non ho i mezzi per poter valutare se sono prese di posizioni corrette o no io penso in generale che il recinto e che la chiusura e che la barriera e che invogli a prevaricare invogli sempre quello che c'è dentro a saltare per andare a vedere cosa c'è fuori io dico questo in generale però è chiaro che se questo poi mette in discussione l'incolumità o può creare problemi a un'altra persona nessuno ha diritto di creare dei danni a un'altra persona per cui quelli che hanno queste intenzioni vanno sicuramente limitati per quanto riguarda la partita con il Napoli tutti dobbiamo dare un contributo per creare un ambiente sportivo sociale dove le persone possono vivere le passioni le passioni sportive in base a quelli che sono i colori che amano nella sua totalità nella correttezza nella possibilità di lasciare esprimere quelle che sono le voglie altrui le passioni altrui ed è proprio questo che anche lì se si vuol vedere qualcosa di sfida che ti permette di essere all'altezza del confronto che ti permette di far vedere che sei uno che ha capacità cioè lasciare che gli altri si esprimano e io mi esprimo meglio non andare poi a limitare quello che hai davanti io debbo essere più bravo se voglio avere una classifica migliore non debbo andare a sperare che gli altri sbaglino o che gli altri siano puniti e penalizzati è così l'individuo libero deve essere quello che ha la possibilità di esprimersi senza voler male a ciò che lo circonda e altri e altri individui e ad altre persone Lorusso RDS Buongiorno Spalletti Buongiorno a lei Senta lei all'inizio della conferenza stampa ha detto che il Napoli è la miglior squadra al momento del campionato rispetto alla Roma lei sulla carta vede un Napoli in questo momento un gradino più su considera questo uno scontro diretto per un eventuale secondo terzo posto e se questo secondo lei è l'impegno più difficile visto che la trasferta come si diceva poco fa è ostica più difficile dall'inizio della stagione guarda lui è abituato alle domande se è un po' accigliato secondo me gli sono sembrate troppe bisogna che tu rinunci una per favore se lo fa lui lo posso fare anch'io perché lui è abituato è un po' meno visto non fatto quanti anni fa allora il Napoli è una squadra forte è una squadra forte ce ne sono altre che hanno espresso un buon gioco una è il Sassuolo un'altra è il Chievo proprio di gioco effettivo di squadra che hanno fatto buon calcio l'hanno fatto vedere sono delle belle squadre allenate bene che ricercano poi il massimo in tutte le partite che non concedono niente di quello che hanno nella totalità della forza non abbassano mai il loro livello di forza esprimono il proprio massimo dentro le partite e in Napoli l'ha fatto vedere l'ha fatto vedere noi in alcune partite come ho detto prima non siamo stati non siamo stati all'altezza per cui dobbiamo anche noi far vedere il nostro massimo in questa partita e se riusciremo a far questo noi non siamo un punto sotto mi sembra abbia detto un gradino no siamo sulla stessa piattaforma siamo tutte e due piattaformati su gradini ci si sta stretti si ha bisogno di più spazio è una piccola piattaforma dove ci stiamo insieme a loro e dove vogliamo o vicino a loro loro hanno un punto più di noi per cui qualcosa di meglio hanno fatto vogliamo confrontarci come è stato l'anno scorso l'anno scorso loro hanno perso noi abbiamo vinto però non meritavano di perdere noi magari la vittoria non era meritata potevano vincere loro e lo stesso discorso sarebbe stato ribaltato però è stata giocata una partita sul livello di due grandissime squadre che sono state in campo in una maniera spettacolare riconosciuta da tutti quelli che hanno visto la partita io spero che sia un'altra partita di questo livello qui è un impegno difficile? è un impegno difficile? guarda ce ne sono tanti impegni difficili e anche quello di domenica era difficilissimo perché l'Intel è una scuola magnifica io vivere senza scopo è un traguardo che ho già raggiunto da un po' per cui ho la mira di fare qualcosa di meglio e queste occasioni qui sono quelle per avere uno scopo nella professione che faccio sul ruolo che ho e vado lì per giocare la partita e per tentare di vincerla poi è sicuramente difficile perché loro sono sono forti sono una grande squadra ce n'è un'altra basta facciamo l'ultima la Cagnina buongiorno a lei le volevo chiedere lei ha sempre detto che la Roma se la può giocare contro la Juventus che valore dà domani a questa gara e se rappresenta un vivio in tal senso per il vertice della classifica grazie che valore ha un valore importante però non è solo questa o perlomeno mettiamola così è un'occasione per predire il futuro perché poi dice che futuro avrò andrò a finire l'unica cosa per saperlo e per predirlo è fare delle cose fatte bene evidenziare qualità subito e fare dei risultati in base a quello che deve essere il tuo impegno giornaliero questa è un'occasione per predire il nostro futuro poi probabilmente ce ne saranno altre però poi il livello il livello di possibilità in base a come esci da queste partite diminuisce o aumenta ecco però sarà una bella partita una bella occasione per noi e noi dobbiamo farci trovare pronti grazie a voi grazie a tutti